Questa strada di Ponticelli, che è il prolungamento di Via Montale, da oggi è intitolata al greco Alessandro Panagoulis. È stato un politico, poeta e rivoluzionario in lotta per la democrazia e i diritti umani contro la dittatura dei colonnelli. Panagoulis è anche il protagonista del famoso libro Un uomo della scrittrice Oriana Fallaci, che fu sua compagna di vita dal 73 al 76. Possiamo dire che tutta la nostra storia democratica della Grecia è legata molto con la famiglia Panagoulis e per di più con Alekos, perché è stato un grande simbolo. Voglio su questa cosa ringraziare anche il Comune di Napoli per l'iniziativa che avete preso. Siamo in momenti molto difficili, dove molte cose le abbiamo perse, molto di tutto quello che è successo prima lo vogliono cancellare, però queste sono le nostre storie. La scelta del Comune di dedicargli una strada sottolinea la volontà dell'amministrazione di rendere omaggio ad un uomo divenuto simbolo della resistenza ai regimi autoritari. Si consolida un legame sempre più forte tra la comunità napoletana e la comunità ellenica e lo si fa ricordando in un quartiere di periferia un rivoluzionario, un uomo politico autentico, una persona ricca di umanità, un letterato, un poeta, un uomo libero, un uomo che ha sofferto per la libertà, ha contrastato la dittatura e ha fatto onore ai valori di democrazia, di libertà, di fratellanza e di guaglianza che nel Mediterraneo sono particolarmente radicati. Quindi siamo davvero contenti di aver voluto fortemente come amministrazione comunale questo giorno.